Insomma, perché non le piace questo governo delle larghe intese? Non mi piace non solo e non tanto le larghe intese, non mi piace il governissimo, c'è un governo tutto politico, senza scadenza, che in fieri farà il proprio programma, che discuterà di leggi elettorali e di riforme costituzionali con un passo molto lento, perché si parla di una verifica dopo 18 mesi che mi sembra un tempo assurdo e lunghissimo. Sono un po' frastornato come tanti elettori del PD, come tanti dirigenti anche del Partito Democratico, sono stato molto critico, ho chiesto che si potesse discutere di tutte queste belle cose o brutte cose nei giorni scorsi, purtroppo abbiamo potuto farlo solo questa mattina, io sono intervenuto al gruppo, non sono intervenuto in aula, non voglio piantare una grana, voglio segnalare che c'è un dissenso che il PD deve considerare, in questi giorni mi hanno minacciato di espellermi, mi sembra un atteggiamento proprio un po' stupido, non per me, ma diciamo verso chi esprime un dissenso, anche il richiamo all'ordine che è stato fatto in questi giorni. Io sono disponibile a votare quello che decide il gruppo se il gruppo lo ha deciso, se c'è stato imposto da forze esterne o da un meccanismo che ci siamo creati da soli per non decidere, francamente non dico che mi sento libero, però mi sento anche di esprimere una posizione di dissenso.